L'agosfera è style and fashion, ha il piacere di incontrare Modesto De Luca, direttore stile di FreeSoul. Ciao Modesto e benvenuto. Qualcom, ciao a tutti quanti. Modesto, siamo a PT Uomo 76, state presentando la collezione Primavera e Estate 2010 di FreeSoul. Qual è il mood dell'uomo della prossima estate? La nostra ispirazione è che qui presentiamo il nostro store concert, che è una cosa nuova che noi abbiamo fatto, però proprio presentazione per presentare, che va già in tutti i mercati, tipo Inghilterra, UK, Francia, già sarà in quella prossima collezione, però qui per l'Italia stiamo partendo, per cui stiamo presentando il mood della collezione ispirata a Cadillacami 50, che purtroppo qui non è presentata proprio in maniera, perché non ce la volevamo solo concentrarsi sul concetto dello store concert, che per noi è fondamentale, perché è un concetto molto evolutivo di situazione e di tutto, che poi lo vedete anche proprio realizzato qui in tutta, in questa situazione. Per cui è anche un nuovo modo di vivere la situazione e di presentare anche le cose. Sì, infatti prima ce l'hai mostrato molto dettagliatamente, cioè è un nuovo modo di concepire proprio lo store con funzionalità, ma anche un'attenzione alla tecnologia. Sì, infatti, la cosa bella proprio per noi c'è la tradizione della tecnologia, che adesso praticamente è abbinata alla tradizione della tecnologia, perché ormai tutti e noi abbiamo il cellulare. Tutti quanti però vogliamo le cose vere, ci piacciono le cose belle, le cose del divano di pelle, tutte queste cose molto particolari, però vogliamo sederci davanti al visore al plasma. Il nostro concetto proprio di jeans è vedere proprio la tradizione del vecchio denim nato tanti anni fa, abbinata alla tecnologia anche nella comunicazione. Non più la carta, ma abbinata al discorso del concetto del video. Infatti il modello viene presentato, visto sullo scherma, dove puoi vedere in movimento, non un po' più statico, in una posizione, dove puoi entrare, il cliente può vedere, può immaginare anche la sua vestibilità e crearsi, buttarsi dentro. E poi alla fine lo può anche toccare, perché la cosa bella non è una cosa solo di fantasia, lo possiamo toccare. Abbinato questo concetto lo vedo molto innovativo, molto bello, molto particolare e funzionale. Questa è una cosa molto importante per noi. Grazie Modesto, a presto. A presto anche a voi, grazie mille.